Musica Finanziaria e bilancio in aula Stati Generali dello Sport Nelle sedute del 28, 29 e 30 aprile l'Assemblea ha esaminato finanziaria e bilancio della Regione Piemonte Il 28 il Consiglio regionale ha inoltre discusso e bocciato due documenti per la difesa dell'ospedale San Luigi di Orbassano e nella pausa dei lavori ha ricevuto una delegazione sindacale della città metropolitana Il dibattito sugli emendamenti è proseguito anche nella seduta del 29 con una pausa per la riunione della prima commissione e per ricevere il rappresentante sindacale degli addetti alle pulizie nelle aziende sanitarie regionali La legge finanziaria è stata approvata a maggioranza nella seduta del 30 aprile In copertina Il Consiglio regionale si è riunito anche in serale il 28, 29 e 30 aprile per esaminare la finanziaria e il bilancio della Regione Tra gli obiettivi di esecutiva e maggioranza il pagamento dei debiti pregressi la riduzione del deficit la vendita del patrimonio immobiliare e la programmazione dei fondi europei per rilanciare l'economia piemontese Critiche le opposizioni che nei numerosi emendamenti hanno sottolineato la mancanza tra gli obiettivi delle norme di strategie di lungo periodo Si è insediato a Palazzo Laskers il Comitato Esecutivo degli Stati Generali dello Sport organismo recentemente istituito per diffondere le pratiche sportive e i corretti stili di vita Il Consiglio regionale è capofila del progetto che coinvolge tre assessorati sanità, sport e istruzione e punta sulla pratica sportiva quale strumento per prevenire le malattie e contenere la spesa sanitaria anche a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione Credo che l'istituzione degli Stati Generali da parte del Presidente Laos sia stata una grande iniziativa a favore dello sport della nostra regione perché gli Stati Generali si occuperanno di tutte le categorie a iniziare dai ragazzi delle scuole dalla primaria fino all'università si occuperà degli anziani che credo sia una categoria che ha bisogno veramente di essere stimolata e la parte più interessante penso che sia ed anche la più difficile quella degli adulti occupati ma sedentari Il Presidente del Consiglio regionale con i capigruppo e il Vice Presidente della Giunta nella pausa dei lavori d'aula sulla finanziaria hanno ricevuto due delegazioni sindacali una della città metropolitana di Torino alla quale è stata annunciata la volontà della Giunta di ricollocare il personale in tempi brevi e riordinare le funzioni delle province a quella degli addetti alle pulizie nelle aziende sanitarie è stata assicurata l'attenzione della Quarta Commissione Sanità che si riunirà la prossima settimana con gli assessori competenti per discutere dei problemi presentati Grazie a tutti! Grazie a tutti.